Chiusa da ottobre dopo la rescissione contrattuale col precedente gestore, la Daneko, con un'inchiesta in corso, l'impianto di compostaggio di Salerno deve riaprire presto anche perché lo smaltimento dei rifiuti organici è una delle voci più costose del ciclo dei rifiuti. L'impianto in questo momento è in una fase di stallo perché la gestione precedente è stata una gestione che ha comportato dei problemi e il Comune prontamente nel giro di meno di un anno dall'inizio del contratto ha risolto il contratto per grave negligenza alla società che c'era prima. La grave negligenza poi si è tramutata nel verificare che all'interno dell'impianto c'erano molti più problemi di quelli che ci potevamo aspettare da una visione così esterna. Salerno Pulite è chiamato oggi alla manutenzione dell'impianto con un finanziamento di 5 milioni di euro arrivato dalla Regione Campania per ampliarlo su richiesta del Comune. Perché l'abbiamo fatta questa richiesta? Perché la Regione Campania stava chiedendo una manifestazione di interesse di territori dove poter costruire degli impianti di compostaggio al che io mi sono detto scusate ma noi con una modesta spesa possiamo avere un ampliamento di 10.000 tonnellate, significa 60.000 abitanti circa, quindi un Comune anche di una certa importanza che potrebbe conferire qua e diventare noi anche un po' imprenditori di noi stessi. La domanda è stata accettata, è stata ritenuta meritevole di approvazione, la Regione Campania ci ha dato anche questo finanziamento di 5 milioni di euro. Ora ovviamente dobbiamo fare i progetti, dobbiamo prima riprendere nella gestione ordinaria l'impianto e poi si farà, però voglio dire è una speranza che la possibilità di ampliamento non è persa. E sarà poi l'amministrazione chiamata a decidere chi dovrà essere il gestore dell'impianto. Andiamo avanti, andiamo avanti, il fatto che ci sia un investimento su questo impianto significa che noi ci crediamo fortemente. Del resto la Regione oggi fa una programmazione ad ampio raggio su questa materia. Noi eravamo partiti già da tempo e siamo convinti oggi ancora di più che faremo delle cose eccezionali sotto questo punto di vista. Dopo la Daneko c'è la gestione del comune di Salerno con Salerno Pulita, sarà questo il futuro di questo impianto come gestione? Noi andiamo per step, per passi. Vedremo nel corso del tempo se Salerno Pulita sarà in grado o meno di gestire al meglio questo impianto. Il nostro interesse è che l'impianto funzioni al meglio. Chi lo gestisce rappresenta un problema secondario. Il nostro problema fondamentale è che questo impianto funzioni come deve funzionare, perché è una nostra risorsa e deve funzionare al meglio.